TG e che te lo dico, affa, da prima valle TG ignorante, sommario e lui è Gino, dici il commidato per la secessione della Patagna ha emesso un nuovo francobollo con la faccia di Umberto Bossi, è stato subito ritirato dal mercato perché la gente invece di sputare dietro al francobollo sputava davanti e che te lo dico, affa, il direttore del TG4 Emilio Fede è rimasto vittima di un singolare incidente, pare che abbia perso la lingua, sono iniziate le ricerche nel culo dei Berlusconi e che te lo dico, affa, ecco che adesso parte il servizio, bene avete visto il servizio e il TG finisce qui, noi si ribecchiamo, alla prossima, TG e che io te lo dico, affa.